La conferma che ultimo sia amatissimo da una platea immensa di fan si è avuta ancora una volta qualche ora fa, durante il concerto del primo maggio a Roma che lo ha visto esibirsi davanti a un pub. La conferma che ultimo sia amatissimo da una platea immensa di fan si è avuta ancora una volta qualche ora fa, durante il concerto del primo maggio a Roma che lo ha visto esibirsi davanti a un pub. La conferma che ultimo sia amatissimo, ma se un'ovazione così sentita è prevedibile in una situazione come l'evento del Circo Massimo, decisamente più curioso è il gesto di una fan del cantautore romano, incontrato per K. Ma se un'ovazione così sentita è prevedibile in una situazione come l'evento del Circo Massimo, il video del momento è stato pubblicato su TikTok dallo stesso ultimo che, dall'abitacolo della sua auto, ha ripreso la scena della donna scesa dalla sua auto con la sua bambina per andare in con. Il video del momento è stato pubblicato su TikTok dopo la foto insieme alla piccola fatta al finestrino e il saluto della donna che gli ha urlato sei un mito, ultimo ha ripreso anche la macchina accanto con altri due fan che lo salutavano riprendendo Dopo la foto insieme alla piccola fatta al finestrino e il saluto della donna che gli ha urlato sei un mito, ultimo ha ripreso anche la macchina accanto con altri due fan